Aldo Liotino Cantautore Tarantino con la pubblicazione del suo singolo Universo Un titolo che già esprime tutto Ma questo Universo cosa contiene? Cosa è voluto esprimere con questo nome così grande e grandioso? Sì, è un nome importante e vuole rappresentare il mio mondo La mia musica, il mio bagaglio culturale e artistico Racchiuso in un singolo brano da 4 minuti Rappresenta me, rappresenta me in toto nel testo La musica composta da Fabio Conserva E non vuole altro che raccontare ciò che io sono, il mio mondo Quindi in chiave diciamo autobiografica ed introspettiva Soprattutto introspettiva e in particolare è un'accusa diplomatica a chi ghettizza la musica Il testo narra di un lupo, io sarei il lupo Il lupo che racconta tutto, che non ha la lingua ferma E vuole esprimere le proprie note musicali con tutta la voglia e il desiderio di farle arrivare al pubblico Una sfida, una scommessa importante Sì, in particolare con me stesso Perché è un brano in cui credo tanto Ed è partito da London One Radio Sono stato in Inghilterra E scelto nella sezione delle nuove proposte italiane nel mondo E da lì è partita la tournere radiofonica Ieri Bari, oggi Taranto Per cui è una sfida che forse è stata veramente raccolta Soprattutto dalle radio E questo mi gratifica molto